Questo è lo studio in assoluto che ha utilizzato il dosaggio più alto di questo farmaco antiparassitario e ivermectina che è diventato molto di moda nella cura delle fasi iniziali del Covid-19 perché molti studi precedenti hanno dato risultati di efficacia a volte addirittura strabilianti tanto è vero che addirittura alcuni ministeri della salute e soprattutto dell'America Latina l'hanno inserito nelle proprie linee guida, il che ha provocato fra l'altro un abuso dell'utilizzo di questo farmaco addirittura assalti alle farmacie in alcuni paesi, quindi diciamo che è uno dei farmaci su cui si è puntato molto. Il tutto partiva da uno studio australiano in vitro in cui dimostravano che con concentrazioni piuttosto elevate del farmaco si eliminava completamente il virus dalle colture cellulari, quindi uno studio in laboratorio. Basato sui risultati di questo studio noi abbiamo impostato con l'aiuto, la collaborazione veramente importantissima dell'Istituto Mario Negri di Milano, uno studio in vivo, cioè sui pazienti, utilizzando i dosaggi più alti di qualsiasi altro studio su questo farmaco per il Covid-19, ma perché? Perché abbiamo cercato di utilizzare dei dosaggi che fossero compatibili con i risultati trovati in vitro dagli australiani. Tutti gli altri studi utilizzavano i dosaggi che noi usiamo normalmente per curare le malattie da parassiti che sono estremamente più bassi e che secondo noi non erano plausibili, per cui diciamo anche che abbiamo sempre creduto poco in questi risultati mirabolanti che venivano propagandati. Sta di fatto che recentemente delle review sistematiche molto serie, tra cui quella della Cochrane Collaboration, che in temi di review di trial clinici la possiamo considerare la vera e propria cassazione, ha stabilito che scartando gli studi che erano di bassa qualità, che erano molti, alcuni dei quali addirittura fraudolenti, in senso letterale sono stati addirittura ritirati alcuni degli studi, effettivamente non si poteva dimostrare alcuna efficacia del farmaco. Il nostro studio mirava a vedere se la carica virale in vivo, cioè nel paziente, si poteva ridurre significativamente con questo farmaco. Quindi il nostro era uno studio di fase 2, non di fase 3, non ci proponevamo risultati clinici che avrebbero richiesto popolazioni molto più numerose, ma naturalmente il presupposto era che se la carica virale si fosse abbassata c'era il presupposto per cui anche le conseguenze cliniche sarebbero state meno importanti, ci sarebbe stata una prevenzione dell'ospedalizzazione delle conseguenze cliniche gravi del Covid. Di fatto il nostro studio ha mostrato una riduzione della carica virale, però in termini tecnici non statisticamente significativa, che cosa vuol dire? Che non si può escludere che questa riduzione fosse dovuta al caso. Alcuni risultati clinici che, come dico, lo studio non era sufficientemente numeroso per dare delle risposte definitive in questo senso, però anche quelli purtroppo non sono stati incoraggianti. L'unica cosa veramente incoraggiante dello studio è stato che il farmaco si è rivelato sicuro ad alte dosi, nel senso che non c'è stato nessun effetto avverso grave, però ci sono stati parecchi effetti avversi, lievi o moderati, tanto è vero che quasi un terzo dei pazienti con il dosaggio più alto hanno interrotto il farmaco prima della quinta somministrazione. Inoltre, fra l'altro, questo può essere del tutto casuale, però gli unici quattro pazienti che hanno dovuto poi richiedere l'ospedalizzazione, per fortuna poi tutti sono finiti bene, erano tutti nei bracci di trattamento e non nel braccio del placebo. Quindi tutte queste cose insieme ci fanno dire che con una certa chiarezza dobbiamo dimenticarci di questo farmaco per il trattamento del Covid in fase precoce, dobbiamo metterlo nel cassetto. Magari è un po' prematuro arrivare a dire questo perché ci sono ancora dei trial clinici in corso, la mia personale opinione è che i risultati non saranno positivi proprio perché i dosaggi non sono plausibili. Qual è il significato di uno studio che dà risultati negativi? Naturalmente quando si intraprende uno studio si spera che i risultati siano positivi, ma se si dovesse già prevedere l'esito non si farebbe nemmeno lo studio. Diciamo che lo studio ci conferma che in realtà purtroppo ancora nella fase precoce del Covid ci sono molte poche armi a disposizione per il trattamento e quindi un messaggio ancora più forte per dire utilizziamo l'arma che sappiamo già essere efficace, che sappiamo essere molto efficace, che è quello che ci può permettere di controllare la pandemia, cioè vacciniamoci.